Covid morto e 279 positivi Green Pass, le nuove regole da lunedì, la carta verde serve su bus e metro, obbligo di mascherine all'aperto nel centro storico di Teramo fino a Capodanno. Banca Tercas di Matteo Assolto, anche in appello l'Istituto di Credito non doveva essere commissariato e dunque neppure venduto alla Popolare di Bari, ora si aprono nuovi scenari. Vigili del fuoco in festa per Santa Barbara all'appello di Barboni, vaccinatevi, il comandante provinciale invita i cittadini anche alla cooperazione contro i piromani. Il Teramo vince dopo un mese, secco 3-0 Biancorosso sul campo del Ponte d'Era, Pescara, pronto mister Oddo, se Auteri domani non vince a Grosseto. Bentornati insieme con l'appuntamento del notiziario dedicato all'Abruzzo, in apertura la situazione dei contagi che sono in linea con quelli di ieri, sono 279 i positivi ma a preoccupare è la percentuale di contagiosità che è salita al 7%, c'è da registrare anche un decesso mentre aumenta di una unità il dato dei ricoveri nelle terapie intensive mentre quelli nelle aree mediche diminuiscono di ben 12 pazienti. Sentiamo il servizio di Alfredo Giovannozzi. La curva del contagio resta purtroppo piatta in Abruzzo, il numero dei nuovi positivi al Covid è sulla stessa linea di quello di ieri, vale a dire oggi sono 279 che scaturiscono da 3.979 tamponi molecolari esaminati che sono leggermente meno di ieri. Questo fa sì che la percentuale di contagiosità sia pari addirittura al 7%, se ieri era altissima ed era di poco al di sopra del 6%, oggi è preoccupante. Così come lo è anche quella complessiva che tiene conto anche degli 11.444 test antigenici ed è dell'1.8%, più alta di ieri nonostante il maggior numero di test molecolari. Preoccupante è il dato che si riferisce alla provincia di Teramo dove i nuovi positivi sono ben 120, unica provincia in tripla cifra. Quella di Chieti ne conta 74, 56 pescarese mentre la provincia di L'Aquila se la cava con 23 nuovi positivi. Purtroppo c'è da registrare anche un decesso e si tratta di un uomo di 68 anni della provincia di Pescara. A dare un minimo di tranquillità e di ottimismo arriva il dato che si riferisce ai ricoveri ospedalieri e di conseguenza la pressione sulle strutture regionali. Se nei reparti di terapie intensive i ricoveri aumentano di una unità e diventano così 10 i pazienti, nelle aree mediche il decremento è più che importante perché si tratta di ben 12 pazienti in meno. E così il numero di eletti occupati scende decisamente a quota 102 dai 114 che erano ieri. A fare da contraltare c'è però il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'Asle di competenza dove l'incremento delle ultime 24 ore è di quelli pesanti visto che sono 183 più di ieri per un valore complessivo di 4.776. In tripla cifra fortunatamente c'è anche il numero dei guariti delle ultime 24 ore e sono 106. Sono tanti ma sempre meno dei nuovi contagiati. Questo fa sì che il numero degli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei guariti e dei deceduti, sia di ben 172 unità più alto di quello di ieri per un valore complessivo di 4.888. E a partire da lunedì 6 dicembre entrano in vigore le nuove regole sul Super Green Pass e le novità che riguardano anche il trasporto pubblico locale. In alcune città poi verrà introdotto l'uso della mascherina obbligatoria anche all'aperto come nel caso del Centro Storico di Teramo. Sentiamo. Eccellenza, da lunedì entrano in vigore le nuove regole stabilite dal governo Draghi. Sarà una rivoluzione quasi, soprattutto per quello che riguarda i mezzi pubblici. Io tenderei a stemperare un'attesa che in realtà non potrebbe soltanto complicare un'applicazione serena e tranquilla da parte di tutti i cittadini. Nei momenti di maggiore criticità del lockdown, i cittadini italiani, in particolare i cittadini terramani, che ho potuto verificare da vicino, hanno dimostrato un grande senso civico. Da lunedì sicuramente noi avremo due diverse modalità anche di controllo e di attenzione. Il Green Pass normale, naturale, è quello che conosciamo, che sarà esteso però ai mezzi pubblici. Quello è il versante che potrebbe provocarci qualche difficoltà in più. Difficoltà in più perché c'è anche la variabile degli studenti che a scuola non hanno bisogno del Green Pass, ma a bordo degli autobus al momento devono possederlo. Ci stiamo lavorando, il governo in queste ore sta facendo delle verifiche e vedremo. Per il resto dovremo fare attenzione agli ambienti chiusi, agli spazi chiusi, e quindi applicheremo con rigore e con controlli interforze. E poi c'è la novità anche in alcune situazioni di quelle decisioni che possiamo definire quelle delle autonomie, le ordinanze dei sindaci come quella di Teramo che stabilisce per determinate fasce orarie, determinati giorni, l'obbligo nel centro storico dell'uso della mascherina. Esatto, esatto. Noi ne avevamo parlato nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di qualche giorno fa. avevamo valutato col sindaco questa opportunità che gli enti locali potevano seguire. Naturalmente ritengo che abbia fatto una scelta giusta e ponderata il sindaco di Teramo perché ha individuato non genericamente un periodo, quindi il periodo delle feste natalizie, ma ha cercato di identificare, di isolare alcune fasce giornaliere e alcune giornate, in modo tale che i cittadini possano tendenzialmente essere richiamati all'attenzione in quei momenti in cui naturalmente c'è più assembramento. E sul tema delle mascherine, anche nei luoghi dello shopping natalizio si è aperto un dibattito. A Pescara molti cittadini si dicono favorevoli, ma c'è anche chi pensa che tale misura non serva ad arginare i contagi. Sentiamo Sara Delvecchio. Mascherine all'aperto, sì o no? In alcune città abruzzesi i sindaci hanno già firmato l'ordinanza che prevede l'obbligo di indossarle. A Chieti il provvedimento entra in vigore a partire da lunedì 6 dicembre, nello stesso giorno in cui servirà il Super Green Pass. In altre comunità si sta per procedere nella stessa direzione. Abbiamo fatto un giro a Pescara per ascoltare le opinioni dei cittadini. Molti sono favorevoli, altri la ritengono una misura poco utile, ma comunque dettata dalla necessità di tutelare la popolazione in un momento di ripresa del virus. Favorevole? Allora, per il momento no. Se non c'è assembramento, secondo me non è necessaria. Però se poi incomincia, magari sotto le feste, ad esserci più affluenza fuori dai negozi o nelle piazze, sì, penso che sia la cosa migliore. Per lei? Io sono abbastanza favorevole, nel senso che comunque non è un grande sacrificio, se può aiutare comunque la cosa, sì. In uno spazio aperto come questo non ha significato, bisogna vedere quanta gente ha intorno e a che distanza. Da un punto di vista tecnico-medico non avrebbe significato altrimenti. non sono sicuro che sia veramente necessario, però a un certo punto dobbiamo uscircene da questa situazione. Quindi se è necessario utilizzare questi dispositivi anche all'aperto, usiamoli. Lei indossa la mascherina in questo momento all'aperto, quindi è favorevole a questo ritorno alla mascherina anche all'aperto? Sì, in questo periodo assolutamente sì, sono favorevole alla mascherina. Perché comunque stiamo tornando in una situazione in cui non è ancora tutto abbastanza ben chiaro sotto queste nuove varianti, quindi tanto vale proteggersi. La soluzione anche in appello dell'ex direttore generale di Banca Tercas, Antonio Di Matteori, apre nuovi scenari sulla vicenda del commissariamento dell'Istituto di Credito, ma anche sulla sua cessione a Banca Popolare di Bari. Si può dire che adesso inizia un nuovo capitolo della vicenda anche con degli strascichi giudiziari. Ce ne parla Alfredo Giovannozzi. Una prima verità definitiva sulla vicenda Tercas per quello che riguarda il processo delle azioni è stata scritta. Si, vede Giovannozzi, io conosco Di Matteo da due o tre anni. Posso dire che è una personalità veramente molto particolare. È un vero genio della finanza, ma è una persona leale e onesta. Posso dire senza nessun tipo di problema che lui ha operato sempre con lealtà e correttezza. È una sentenza questa che lascia poco spazio alla fantasia? Una soluzione piena? Sì, è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Teramo. Il Tribunale di Teramo ha accertato l'insussistenza di qualsiasi ipotesi di reato. La Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale. Stiamo parlando, lo ripetiamo, delle azioni, del processo nel quale l'accusa era quella di aver indotto subalterni a vendere azioni che poi azioni non erano. Il Tribunale di Teramo, ripeto, ha accertato in pochi mesi, compiendo un'istruttoria molto articolata e complessa, che si trattavano di azioni della banca che poi la banca ricomprava dai propri azionisti. Quindi Di Matteo né gli altri dirigenti non ha truffato nessun risparmiatore. I problemi che si sono successivamente verificati sono dipesi dal commissariamento. Quindi la banca non ha più riacquistato le azioni. Adesso è il periodo del Redderazionem, cioè adesso parte e scatta quella che è la seconda fase di questa vicenda. Tutti coloro che hanno testimoniato in un certo modo, tutti coloro che hanno detto delle cose, tutti coloro che hanno accusato, cosa si farà? Ma io di questo adesso non posso dire nulla. Vedremo tutte le testimonianze che ci sono state e valuteremo con serenità, insieme al dottor Di Matteo, insieme anche alla collega, all'avvocato Di Matteo, vedremo il da farsi. Perché il pericolo è quello della falsa testimonianza, della calugna, della diffamazione? Assolutamente sì. Io lo dico dal 2018. Teramo con Di Matteo ha perso una grande personalità. Il territorio ha perso una grandissima occasione. E nel giorno in cui la Marina Militare e i Vigili del Fuoco festeggiano la patrona Santa Barbara, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo, Massimo Barboni, lancia un appello alla vaccinazione, ma anche alla cooperazione dei cittadini nella lotta ai piromani. Sentiamo Giancarlo Falconi. Il 18 marzo del 2021 il ministro Lamorgese, nella giornata dedicata alle vittime del Covid, ha ricordato ovviamente anche i defunti del Vigili del Fuoco. Sì, diciamo che noi pure abbiamo avuto diversi, fortunatamente non a Teramo, pure noi abbiamo avuto diversi, purtroppo persone che sono decedute a seguito del Covid. E quindi, diciamo che questa è una malattia che sta prendendo tutti, è il livello orizzontale, quindi ci fa capire che alla fine davanti alla malattia siamo tutti uguali, insomma, non ci stanno preferenze. L'unica cosa che posso dire è che io mi sono fatto la terza dose. Ed è un messaggio che noi le stavamo per chiedere, quindi lei ci ha anticipato. È stato invece un anno all'insegna degli incendi boschivi nella nostra provincia. Sì, diciamo che quest'anno è stato veramente un anno molto duro per la provincia di Teramo. Siamo stati veramente bersagliati da questi incendi di bosco che hanno interessato gran parte della provincia, tant'è vero che abbiamo dovuto anche chiedere l'ausilio degli altri comandi, perché la situazione era insostenibile solo con le nostre forze. Un grosso ringraziamento ai nostri Vigili del Fuoco, ma soprattutto anche ai volontari, che si è dimostrato in questa fase che la sinergia tra tutte le componenti dello Stato serve per risolvere i problemi che affliggono il territorio in generale. Comandante, è un secondo messaggio positivo. La vostra divisa è la divisa più amata dagli italiani. Un messaggio per cercare di creare una rete di collaborazione con i cittadini. La denuncia quanto è importante? La denuncia è importantissima, perché poi ritornando al discorso degli incendi di bosco ci siamo accorti che c'era una strana coincidenza che avveniva tutti quanti verso il fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Quindi questa cosa ci fa riflettere, quindi dovremmo cercare di essere un po' più vigili tutti quanti, nel senso generale, non solo dei Vigili del Fuoco. Però questo non deve neanche ingenerare un sistema di denunce e di diventare tutti quanti degli 007. Uno se vede delle situazioni anomale, le segnala e sicuramente ci dà una mano a risolverle per tempo. Teramo è nel cratere sismico. L'importanza di avere nella ricostruzione una speranza per creare sicurezza. Questo però non è una competenza di Vigili del Fuoco, perché noi facciamo soccorso tecnico urgente. Però possiamo dare una mano nelle situazioni di crisi per dare una valutazione speditiva in caso di situazioni d'emergenza, sempre per valutare la sicurezza della cittadinanza. E stamattina Vigili del Fuoco ha lavoro per un incendio che si è sviluppato in un'azienda di Cappelle sul Tavo in provincia di Pescara, azienda che produce sedili in vetroresina per go-kart sul posto. hanno operato una squadra di Pescara, anche dei volontari da Montesilvano. Giunti sul posto i Vigili hanno spento le fiamme che hanno interessato il locale lavorazione e anche parte del tetto, ma fortunatamente non risultano feriti. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'azienda tua sulla filovia che insiste sulla strada Parco a Pescara. Dunque i lavori adesso possono riprendere. Il via libera alla realizzazione della filovia sulla strada Parco a Pescara arriva dal Consiglio di Stato che ha ribaltato la sentenza del Tar. In questo modo, così come annunciato dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, i lavori sull'ex tracciato ferroviario possono ripartire. Il Comitato Strada Parco però non si ferma e continua la sua battaglia. Nel giro di due mesi ci sono state due decisioni opposte sul futuro di una strada al momento pedonale da una parte e ciclabile dall'altra. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato contro l'ultimo pronunciamento del Tar sulla vicenda filovia consentendo la ripresa del cantiere. In particolare, il Tribunale amministrativo ha obiettato il difetto di Fumus e di Periculum in Mora, ovvero l'assenza delle condizioni tali da rendere necessaria la sospensione dei lavori, acclarando di fatto che tra il ricorso e la discussione di merito non potrebbero essere realizzate opere irreparabili, quindi tali da rendere poi inapplicabile un giudizio eventualmente favorevole al Comitato Pro Strada Parco, precisa Sospiri in una nota. In pratica, le opere della filovia possono andare avanti nell'attesa del giudizio di merito. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha accolto le motivazioni di TUA, ossia quelle relative al fatto che il progetto invariante non si differenzia in modo sostanziale dal progetto definitivo. I dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, definiti da tutti i cacciatori di varianti per il loro fondamentale contributo alla lotta al Covid a causa di un problema burocratico, rischiano di non essere ricompensate a livello economico per quello che spetterebbe loro e i sindacati sottolineano proprio questa situazione. Sentiamo Chiara Bonatti. Sono stati chiamati i cacciatori di varianti durante questa pandemia per il loro importante contributo in emergenza sanitaria. Ora i sindacati sottolineano il mancato riconoscimento economico per l'impegno profuso dai dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise. Non è andato tutto bene come nei mesi scorsi scrivevamo e leggevamo dai balconi. Non è andato tutto bene in particolare per qualcuno. Questo qualcuno è chi ha garantito la sicurezza sanitaria nei periodi più bui e più difficili della pandemia. Tutto il personale impegnato nella ricerca e nella conoscenza del virus che ancora oggi ci attanaglia. Una precisazione è doverosa. Non stiamo parlando di risorse ulteriori che pur questo personale e questo istituto avrebbe meritato. I dipendenti dell'IZS, Abruzzo e Molise, non vedono riconosciuti il loro salario ordinario, una parte del loro salario ordinario. La decisione del Collegio dei Revisori dei Conti, che per ragioni burocratiche ha portato alla mancata certificazione dei fondi destinati al personale IZS, impedisce il pagamento dei premi di produzione relativi all'anno 2020. Questa situazione riguarda l'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise nella sua interezza. In quello che tecnicamente chiamiamo personale del comparto, il personale dirigente sanitario e non sanitario è una problematica legata ad aspetti formali che ci saremmo aspettati che nel corso dell'anno 2021, perché è bene ricordare, stiamo parlando di risorse del salario 2020, avrebbero dovuto e avrebbero potuto e dovuto trovare pieno compimento in tutte le criticità, seppur dovessero esistere, che potevano esserci da un punto di vista squisitamente formale e burocratico. Manca la certificazione dei Revisori dei Conti a questi fondi, ripeto, a risorse che ci sono e che sono destinate al personale. Manca questa certificazione. È intollerabile a dicembre 2021 che qualora ci fossero state dei problemi di natura tecnica, siamo ancora al 3 dicembre a non poter darne una risoluzione e una risposta che si traduce in risorse da destinare ai dipendenti. Apriamo ora la pagina sportiva in Serie C. Il Teramo torna alla vittoria dopo un mese con un secco 3-0 sul campo del Ponte d'Era. Sentiamo il servizio di Giussi Cingoli. Il Teramo sbanca Ponte d'Era con un risultato pesante 3-0 e risponde sul campo con una prova di orgoglio e di generosità e mette tutti d'accordo alle contestazioni esterne. Guidi ripropone il 4-3-3, conferma a Peruchini tre pali e recupera Fiorani a centro campo, ma deve rinunciare a Piacentini squalificato, Viero e Lombardo infortunati, Maraia risponde con il 3-5-1-1 e con Benedetti a supporto dell'ex Magnaghi in avanti. Un primo tempo giocato con intelligenza tattica dalla squadra di Guidi, cinica nello sfruttare al massimo le occasioni. Al primo minuto sono pericolosi Toscani con Benedetti che calcia al lato dopo un ottimo aggancio, al diciassettesimo insistono i padroni di casa e ancora Benedetti che chiama Peruchini ad un ottimo intervento, poi il tappin di Magnaghi è viziato dal fuorigioco. Inizia a piovere con insistenza e la gara resta equilibrata. L'equilibrio piovere è spezzato a sorpresa al 28esimo con il Teramo che in azione di ripartenza trova il vantaggio con Rosso, cross di Mungo sul secondo palo per la corrente mezzala, ospite che trafiggio il portiere toscano che respinge la sfera ma al di là della linea di porta per l'1-0. Non è pago il passano tre minuti e raddoppia, ancora Mungo in rifinitura per Bernardotto che davanti al portiere lo supera con l'aiuto di una leggera deviazione. Terzo gol per l'attaccante Biancorosso, i Toscani accusano il colpo e provano a reagire ma senza convinzione e lucidità sottoporta. Al minuto 33 ci prova Benedetti, il tiro sfiora l'incrocio, si va al riposo con il Teramo in vantaggio ma è il Teramo ad essere ancora protagonista e al 54esimo fa trisse. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo salta più in alto di tutti Soprano, il migliore che firma di testa al 3-0, meritatissimo e il difensore va a festeggiare con gli eroici sostenitori del diavolo e ora la gara è tutta in salita per i padroni di casa. Al 76esimo ci prova Marianelli, il tiro deviato in corner, risponde il Teramo due minuti dopo con Aziosmanovic, il destro sfiora il montante, ancora i Toscani all'ottantesimo, Magnaghi di testa superlativo ancora per Lucchini, ci mette una pezza all'ultimo giro di lancette, rigore per i Toscani dal dischetto Magnaghi e l'ottimo per Lucchini, compie il miracolo, finisce 3-0, non accade più nulla, il Teramo con una grande prova di carattere strappa una vittoria meritata, importantissima in chiave salvezza ed esce così dalla zona play-out, il Ponte d'Era non ha molto da recriminare, imprecisa negli ultimi metri, domenica al Bonolis arriva l'Ancona Matelica alle 17.30. Tempo in Serie C, il Pescara domani a Grosseto per Mister Auteri, un'altra prova d'appello senza i tre punti in Toscana pronto al ritorno. Massimo Oddo, Sergio Cinquino. E un'altra prova d'appello quella di domani per il Pescara e per Auteri a Grosseto alle 14.30 contro la penultima della classe, ultima fino alla scorsa settimana prima della vittoria esterna con il Siena. Solo i tre punti toglierebbero l'allenatore del Pescara dalla graticola dopo i risultati da media retrocessione degli ultimi quattro turni di campionato, con due sconfitte esterne e due pareggi casalinghi nelle ultime quattro partite e con dieci punti nelle ultime dieci. In particolare con la Lucchese non si è visto il gioco che almeno, con le tante disattenzioni difensive che non sono mai mancate, si era intravisto in avvio di torneo. E soprattutto sono mancati anche i gol, con un triste 0-0 che sembrerebbe condannare i biancazzurri alla mediocrità in un torneo che società, giocatori e soprattutto tifosi avrebbero voluto da protagonisti. A confermare la sfiducia dell'ambiente la telefonata esplorativa a Oddo, allenatore ancora sotto contratto dopo il pari sbiadito con la Lucchese, anche se la società continua a dare mandato pieno ad Auteri che si affiderà di nuovo al 343, con Sorrentino in porta, ancora titolare. La novità del rientro di Frascatore in difesa, dove Drudi è squalificato e con ingrosso centrale insieme con Cancellotti a destra. A centrocampo squalificato Rizzo dopo il gesto scelerato di Domenica che gli è valso la maxisqualifica di quattro turni, confermati Memuschai e Pompetti con Rasi che dovrebbe prendere il posto di Inzita, poco affidabile in copertura. In attacco possibile conferma anche per il Baby Chiarella, con Ferrari, Bomber a rientro dal primo minuto e Dursi, inamovibile nonostante le prove opache offerte fino ad oggi. Il Grosseto in casa non ha mai vinto, ha pareggiato sei volte e perso due. L'arbitro sarà Bonacina di Bergamo. Non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito. Vi auguro una buona serata in compagnia di Vera TV e un buon weekend. Arrivederci.